Bella B! Bella G! Oggi parliamo di loft dinamico e spin loft. Forse i dati più interessanti e forse anche i meno importanti. Scherzo! Invece ti dirò che hanno un impatto decisivo proprio sul volo della palla. Assolutamente. Partiamo dal loft dinamico. Ok, che è un po' più semplice. Il loft ci indica in gradi qual è il loft del bastone al momento del contatto con la palla e nel punto di contatto della palla. Esatto. Quindi se voi prendete il vostro bel drive 10 gradi e mezzo di loft non vuol dire che quel drive lì al momento di impatto sia 10 gradi e mezzo perché possono cambiare tantissimi fattori tra cui proprio l'angolazione della canna del bastone in caso di movimenti fatti con le mani troppo avanti troppo indietro con capocciate verso la palla o ci tiriamo indietro via dalla palla. Quindi spieghiamola bene perché è importantissima. Se si arriva con le mani un po' avanti alla faccia del bastone chiaramente il loft si chiude un pochino. Dinamico tenderà a diminuire. Se arriviamo scucchiaiando il loft del bastone si andrà ad aprire. In più a questo c'è il lavoro che fa la canna. Quindi una canna un po' più morbida una canna un po' più rigida e a seconda del punto di flessione arriverà un pochino più a raccogliere la palla diciamo una canna un po' più morbida con un punto di flessione un pochino più basso o un po' più rigida e quindi di conseguenza più stabile e quindi un po' più neutrale. C'è un caso di canne più duro con un punto di flessione più alto. Ma l'altra cosa importante che hai detto è che il loft è preso, il loft dinamico, nel punto d'impatto con la palla. Perché è importante soprattutto sui legni? Soprattutto sui legni a causa del bulge. Quindi la curvatura che ha la faccia del bastone in termini verticali e questo va a determinare il fatto che il loft del bastone non sia sempre lo stesso a secondi dove andiamo a colpire la palla. Tendenzialmente più andiamo a colpire la palla in alto sulla faccia del bastone maggior loft avremo, più andiamo a colpire la palla in basso minor loft avremo. E c'è una differenza tra il punto più alto e il punto più basso anche di 4-5 gradi per alcuni drive. Quindi la combinazione di quanto le mani arrivano più o meno avanti, quanto la canna lavora e dove abbiamo colpito la palla fa sì che il loft del nostro bastone non sia quello strutturale, quello fisso, fermo di quando andiamo a misurare per il 10 e mezzo iniziale. Sui ferri, vero tutto questo, manca la curvatura perché mentre i legni hanno questa curvatura che tra l'altro non è soltanto sul piano orizzontale ma anche sul piano verticale quindi è anche bombato per così per capirci, mentre i ferri sono perfettamente dritti. E quindi già un fattore in meno. Una cosa in meno, che per fortuna non dobbiamo calcolarlo noi. No, lo calcolano fortunatamente i launch monitor. Mi aspettavo che tu dicessi l'elenco di tutti i launch monitor come hai fatto fino a questo video qua e invece no, sei stato bravo. Ma lo faccio io allora, il Trackman e il Fryscott. A questo punto potremmo anche calcolare quello che è lo spin loft. Lo spin loft è approssimando molto, sì perché non è proprio così, però approssimando molto è un'assottrazione. È l'assottrazione tra l'angolo d'attacco che ha il nostro bastone nei confronti della pallina e il loft dinamico del bastone. Questo va a creare un angolo, maggiore sarà quest'angolo, maggiore quindi potrà essere la quantità di spin che potrà ricevere la nostra palla. Viceversa, minore l'angolo, minore lo spin della palla. È esattamente il dato più importante per cercare di capire come fare a dare o non dare lo spin a un determinato colpo. Quindi molto semplicemente spesso e volentieri si pensa, vabbè ma io schiaccio la palletta e allora a questa mi parte bassa e spin tantissimo. È vero, ma dipende dalle caratteristiche del bastone perché potrebbe spinare molto di più o molto di meno in funzione di com'è questo dato. Ed è importante perché se non sappiamo questo dato potremmo continuare a leggere uno spin molto alto o molto basso rispetto a quello che vogliamo senza capire esattamente da dove nasca il problema. Mentre invece avendo lo spin loft riusciamo a capire se c'è un errore, fra virgolette, lato bastone. Quindi magari c'è la canna che sta lavorando troppo troppo poco oppure il baricentro del bastone è sbagliato. Quindi abbiamo un bastone magari con un baricentro troppo basso o troppo centrale rispetto al nostro modo di colpire la palla. Oppure magari è il nostro swing che non è ottimizzato per far rendere al meglio quel bastone lì. E quindi magari abbiamo le mani troppo in avanti rispetto all'angolo d'attacco, troppo indietro, chissà. Per esempio si vede questo rapporto in base come giochiamo noi due. Noi abbiamo uno spin loft tendenzialmente similare, balla proprio di pochissimi gradi la differenza, ma nel mio caso è creato con un angolo d'attacco più verticale corrispondente a un loft dinamico inferiore perché tendenzialmente arrivo con le mani un po' più avanti a schiacciare appunto la palla. Nel tuo caso invece l'angolo d'attacco è leggermente meno verticale, il loft dinamico è un pochino maggiorato, ma alla fine la somma delle due cose crea uno spin loft simile. Quindi la quantità di spin diciamo è proporzionata tra me e te. Tu leggermente più alta perché passi più veloce e perché apigli meglio. Questo è meglio. Dipende dai giorni, quello come tutti direi, no? Però in questo caso la quantità di spin è simile ma i due voli di palla sono chiaramente diversi perché il bastone lavora in maniera diversa quindi nel mio caso la palla parte molto più tesa verso il bersaglio, nel tuo caso invece parte con un angolo di lancio molto più verticale. Infatti abbiamo anche proprio due teste di ferri soprattutto molto diverse la mia dalla tua proprio perché per andare a ottimizzare al meglio le due tipologie di swing, di arrivo della faccia sulla palla e ottimizzare al meglio i colpi. Quali sono i valori ideali dello spin loft? Ma sempre mi fai questa domanda l'abbiamo già detto non ci sono dei valori ideali ci sono dei valori che vanno bene per ogni giocatore spannometricamente molto alla larga si può dire che sul drive dove abbiamo bisogno di un po' meno spin lo spin loft è meglio se è un po' più basso e se invece stiamo parlando di ferri dove un po' di spin in più male non fa ma anche lì dipende poi dal giocatore un po' di spin loft in più può dare una mano. E voi avevate mai pensato che il loft dinamico è diverso dal loft che leggi sul bastone? Perché non è così intuitivo uno dice che aspetti 10 e mezzo sarà 10 e mezzo e invece no. E sapevate cos'è lo spin loft? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta! Ciao!